E allora restiamo sulla città della Torre Pendente con una nuova operazione varata dall'amministrazione. Arrivano le telecamere per la ZTL anche in uscita dalla zona traffico limitato. Niente più manovre spericolate a senso unico per entrare nella ZTL senza permesso. Il Comune di Pisa ha installato le telecamere anche in uscita dai varchi della zona traffico limitato in modo a poter sanzionare chi si inventa un modo per passare agli ingressi soprattutto nelle serate della Movida. È una promessa mantenuta ai residenti del centro storico, ha specificato il sindaco Michele Conti, che chiedevano da anni tale tipo di interventi fondamentali per garantire anche un centro storico vivibile e sicuro a misura di pedoni e ciclista, ha aggiunto l'assessore alla mobilità urbanistica Massimo Dringoli. Ma non è questa l'unica novità. Con l'occasione è stata completata una rivisitazione e sostituzione delle telecamere al controllo dei varchi ZTL con un investimento di circa 200.000 euro gestito da Pisamo. L'attivazione di nuovi varchi elettronici realizzati dalla Sismic Sistemi di Firenze ha previsto la sostituzione delle 17 telecamere già esistenti con nuove telecamere con dispositivo di ripresa in HD. I dati raccolti dalle telecamere filtrati tra la lista bianca, ossia le targhe che hanno libero accesso al ZTL, e la lista nera, ossia le auto senza regolare autorizzazione, vengono subito inviate la centrale ZTL e la Polizia Municipale del Comune di Pisa, che li elabora nei tempi previsti dall'attuale legislazione. La novità di questo nuovo sistema è che non ci saranno più buchi per mancanza di elettricità oppure calo della connessione. La telecamera infatti continuerà a registrare tutti i dati necessari.